Le mani dell'Andrangheta sulla pesca, siamo alla nostra inchiesta. Oggi vi parleremo di come le cosche gestivano i porti di Ciron Marina e Cariati e avevano il monopolio dell'offerta del pescato. I due mercati ittici ristrutturati con i fondi europei sono chiusi, i bandi sono andati deserti e adesso sono in arrivo altri finanziamenti della comunità europea. Il servizio è di Erika Crispo. Il mercato è il mercato di Schiavonea, uno dei pochissimi in Calabria a funzionare, anche se sulla voce qui l'asta viene fatta, tra pescatore e acquirente c'è un minimo di trattativa, ma altrove non è così e il grossista ha decidere il prezzo. Trova 5 e qua già viva. Non c'è una filiera vera. Io te lo compro d'inverno quando tu non hai domanda, però tu lo devi vendere sempre a me. Va rotto questo meccanismo che ovviamente penalizza molto il pescatore. Ha interrotto questo modello di dipendenza tra grossista che ripeto in qualche modo stabilisce una sorta di ricatto commerciale con il produttore perché egli compra il prodotto tutto l'anno. Ed è ancora peggio quando il grossista e l'andrangheta a Ciro Marina e Cariati tutto era in mano al clan Farao Marincola. A scriverlo nero su bianco sono i magistrati dell'inchiesta Stige, l'intera filiera dal controllo delle barche che escono in mare, alla rivendita del pescato, alla gestione di tutte le attività del porto. Era cosa loro, ce lo racconta anche un pescatore che ci ha chiesto di rimanere anonimo. Sempre devi dare il pescato a loro se vuoi stare in pace. Se noi ci mettiamo a conto che i scambi più sono alle parti. All'interno del porto di Ciro Marina c'è il mercato ittico ristrutturato con fondi europei, ma non funziona, è chiuso, il tetto è danneggiato. Dopo tre bandi andati deserti dal settembre 2014 alla fine del 2017, il comune lo ha affidato in concessione d'uso alla cooperativa Punta Alice, la stessa in cui erano imbarcati come marinaio e come mozzo Leonardo Crugliano e Salvatore Nigro, gli affiliati che per conto della Cosca gestivano tutto. Complice un'amministrazione comunale collusa, l'ex sindaco di Ciro Marina, nonché ex presidente della provincia di Crotone, Nicodemo Parrilla, è indagato. Nella stessa inchiesta ci sono delle intercettazioni del 2015 che dimostrano come, mentre il mercato era nella disponibilità della cooperativa, di fatto a comandare era il clan che utilizzava tranquillamente magazzini e celle frigorifere. Crugliano si era addirittura preoccupato di chiedere un preventivo per riparare il tetto. I pescatori erano completamente sottomessi all'andrangheta, dovevano dare tutto il pescato a loro senza alcuna contrattazione su prezzi o quantità. Un mercato in cui potessero vendere liberamente era impensabile per la cosca cirotana. C'è un pescato, c'è molto, c'è pesce. E lì ci sono i farao marincola. Esatto. Accariati uguale. Uguale, il pescatore, il pescatore, lo devo portare ai magazzini di Ciro, il pesce lo devo vendere a Ciro, non lo posso portare a Ciro. Accariati, l'uomo dei farao marincola, era Giuseppe Spagnolo, anche qui la mafia gestiva totalmente il business del pesce, ma l'amministrazione locale ha cercato di ostacolare il clan. Sono diverse le minacce e le intimidazioni subite da dipendenti comunali e dallo stesso ex sindaco Filomena Greco. Qui il mercato, finanziato con un milione di euro dall'Unione Europea, non è mai entrato in funzione e la regione ha avviato l'iter per la revoca del finanziamento. A Ciro Marina, invece, il controllo della funzionalità del mercato, ad opera dei tecnici regionali, ha dato esito positivo sull'arrivo a altri fondi comunitari per riparare il tetto danneggiato.